Crypto.com sta utilizzando una strategia che potrebbe portare a sé milioni di utenti. Hi guys, qui è Ryan, il vostro Crypto Analyst di fiducia. In questo video voglio aggiornarvi con quello che sta succedendo con Crypto.com, Ciero, la Kronos Chain e tutto quello che riguarda l'ecosistema di Crypto.com perché sta facendo parlare moltissimo di sé, ma soprattutto, a differenza di molti altri exchange, Crypto.com sta utilizzando una strategia che potrete portare in questa burran i miei utenti che potrebbero far volare CRO to the moon. Vi chiedi di iscrivervi al canale e attivare la campanellina perché è importantissimo rimanere aggiornati in questo settore. Guys, partiamo con una prima news molto importante che soprattutto beneficia i detentori di CRO. So che tra di voi ci sono molti detentori di CRO, molti investitori di CRO che fanno parte della CRO fam. Vediamo come Crypto.com abbia lanciato una nuova campagna per dare il 20% di rendimento annualizzato su CRO, sullo staking di CRO. Non ci sono limiti di capitale immesso in questa nuovissima promo, ma ragazzi affrettatevi perché stiamo parlando di una promozione limitata, soltanto gli utenti più veloci e soprattutto che detengono più CRO. Se detenete CRO fatemi sapere qui sotto nei commenti quanti ne detenete, quanti state esposti in relazione al vostro portafoglio, ma soprattutto vi consiglio di andare a sfruttare questa nuovissima promo che trovate tutte le informazioni qui. È una promo a scadenza, guys. E obbichiamo come mettendo in stake CRO abbiamo la possibilità di ricevere fino al 20% di rendimento annuale sui nostri CRO detenuti e messi in stake per 12 mesi. Lo possiamo fare direttamente dal crypto.com earn plan e questo, guys, cosa potrebbe implicare? Potrebbe implicare che molte persone vanno a mettere in stake con un termine fisso, di conseguenza non possono toccare i propri CRO per 12 mesi e questo potrebbe limitare la selling pressure sull'asset stesso. Questo perché tutti quelli che mettono in stake i CRO hanno la possibilità di venderlo per 12 mesi e di conseguenza qualunque cosa faccia CRO non hanno la possibilità di andare a venderlo. E questo diminuisce a livello indiretto la selling pressure. Guys, nello scorso video che vi è attesciuto in molti, infatti vi invito a comunicarmi, se anche questo video vi piace, lasciando un bel like e commentando, abbiamo visto come Crypto.com stia utilizzando la strategia delle Memcoin per attraverare nuova clientela. Sappiamo bene come i nuovi arrivati all'interno del settore delle criptovalute con una buona probabilità, con un'ante probabilità almeno del 90% vanno a comprare criptovalute come per esempio Memcoin. Perché? Perché sono quelle più volatili e indirettamente appirano nuova utenza data la natura della volatilità di queste criptovalute. Infatti, guys, Crypto.com sta attuando questa strategia di fare tantissime promozioni che riguardano Memcoin. Infatti, diciamo come, abbiano messo in palio circa 20.000 dollari di rewards in Bitcoin per tutte quelle persone che vanno a tradare spot all'interno di Crypto.com, Global League delle Memcoin. Infatti abbiamo Shivanu, Paper, Dogecoin, ma abbiamo tantissime altre Memcoin che vengono comunque listate giornalmente da Crypto.com proprio per invitare le persone ad investire e utilizzare l'applicazione di Crypto.com. Quanto è importante per Crypto.com andare ad attraverare nuova clientela perché se la nuova clientela si trova bene con Crypto.com e ricordo che Crypto.com è uno dei migliori exchange, soprattutto per Pinciuganti perché è uno dei più user-friendly che io abbia mai utilizzato, se la nuova utenza si trova bene con Crypto.com provavi Maintangla a comprare CRO per utilizzare i vari vantaggi su Learn, la Crypto.com Card e tantissimi altri benefici. Perché no? Magari quella diventerà più esperta andrà ad utilizzare anche la Chronos Chain. Un'altra promozione per gli utenti americani, ricordo che in US Crypto.com è uno dei più regolamentati in Seana Coinbase e questo è sicuramente un vantaggio, un'assicurazione per l'utente finale che va ad appoggiarsi a una piattaforma regolamentata in US. Vediamo come hanno presentato una nuova promozione dove mettono in palio mezzo milione di dollari in pepe e questo semplicemente depositando 100 dollari per gli utenti americani. Anche voi, ragazzi, vi ricordo quanto l'America sia importante come settore per il mondo delle criptolote perché la maggior parte degli volumi, la maggior parte degli scambi avvengono da lì. Quindi, ragazzi, se riescono ad attrarre clientele attraverso nuove partnership come la Crypto.com Arena che c'è ormai da anni, attraverso vari partnership come per esempio la Formula 1 e riescono definitivamente ad attrarre clientele attraverso queste promozioni sulle memcoin per in modo di utenti, allora il gioco è fatto, potremmo vedere indirettamente i benefici del lungo termine dato in una nuova utenza che sta entrando su Crypto.com. Inoltre, guys, è uno dei pochi exchange che dà la possibilità di andare a pagare le tasse e essere completamente regolato attraverso il software integrato all'interno dell'applicazione. In un mondo blockchain dove sempre più stati come per esempio ma anche gli Stati Uniti stanno regolamentando il settore è di fondamentale importanza offrire l'opportunità ai propri utenti di andare a pagare le tasse in modo semplice attraverso il software integrato all'applicazione in modo da non preoccuparsi dal punto di vista fiscale. C'è un mondo molto nuovo, infatti l'Europa sta attuando nuove regole per le regolamentazioni NICAP. I Stati Uniti stanno implementando nuovi software e nuove misure per andare a far pagare le tasse sugli investimenti in criptovaluta ed è importante per un utente, soprattutto nuovo, che vuole andare ad investire al mondo delle criptovalute avere un software integrato sulla piattaforma che va ad utilizzare che in questo caso è Crypto.com. Siamo ancora alle fasi primordiali rispetto allo scorso bull market. Infatti, guys, abbiamo appena raggiunto, inizio marzo, una ricerca su internet di Crypto.com di 24. Quindi ancora non abbiamo la FOMO di nuova utenza che sta entrando. Ancora presto, secondo me, post-Halbing potremmo iniziare a vedere un incrementare dell'interesse sul mondo cripto e soprattutto la nuova utenza, ricordo che è a scaricare Coinbase o Crypto.com. Se andiamo a confrontare la blockchain di Kronos rispetto al comportamento del mercato che stiamo vedendo, è ancora abbastanza indietro. Infatti, vediamo come negli ultimi tempi abbiamo visto un incremento del TBL del Tokyo Barlock da 350 milioni di dollari americani per passare circa 500. È stata una bella salita, una salita del 60% circa. Però, vediamo come abbiamo, siamo passati da 40 miliardi per quanto riguarda tutte le blockchain dal 23 ottobre all'23 ad un dato di 96 miliardi. Il mercato è cresciuto di più del 100% quando in realtà Kronos è soltanto del 60%. Vediamo però come, allo stesso tempo, abbiamo tantissime agevolazioni che sta passando la Kronos Chain attraverso delle subvenzioni di milioni di dollari per adattare nuovi sviluppatori che potrebbero creare nuovi protocolli ed attrarre nuovi utilizzatori della blockchain di Kronos. Ricordo che è essenziale che la blockchain di Kronos cresca man mano un CRO e il Crypto.com perché la Kronos Chain utilizza un po' come la Binance Smart Chain, CRO, come moneta di scambio centrale. Infatti, le transazioni sono andate a pagare in CRO, le liquidity pool sono quasi tutte in CRO e moltissimi alti vantaggi. Guys, volevo comunicarvi una nuova promozione di Binance delle persone che si iscrivono attraverso il link che lascio nel box. Avete la possibilità di ricevere fino a 100 USDT in ricompense soltanto iscrivendosi al link promozionale qui sotto. Infatti è di una semplicità bizarmante andare ad investire attraverso Binance. È uno dei più semplici, insieme anche a Crypto.com e sapete quanto è importante andare a diversificare all'interno del settore delle criptovalute. Inoltre, Guys, Binance è il più grande exchange centralizzato al mondo sia per volumi di scambio sia per utenza. È molto semplice andare a utilizzarla attraverso l'applicazione iOS e Android. Se vorrete ottenere fino a 100 USDT in ricompense, tutti i link in descrizione. Arricchiamo il 10% di sconto sulle trading fees. Passiamo con andare a vedere come si sta comportando Zero. Vediamo come sul grafico daily abbiamo finalmente, rispetto a settimana scorsa, avuto un rimbalzo dagli 0.12. Infatti, Guys, vi dicevo come questo livello era importante andare a mantenerlo. L'abbiamo mantenuto. Infatti abbiamo visto una grossa reazione in cui sono intervenuti un sacco di buyers che hanno portato il prezzo dal 0.12 fino agli 0.14. Negli ultimi giorni, soprattutto a partire dagli ELE, stiamo un po' faticando, stiamo un po' ricorreggendo. È normale, in realtà, perché a partire dal 20 marzo fino al 28 marzo abbiamo avuto una crescita del 33%. In realtà l'abbiamo visto su quasi tutti gli asset in relazione al mondo delle crypto valute. Adesso, Guys, stiamo ricorreggendo. Però, Guys, volevo riportarvi anche il grafico settimanale che è il più interessante. Infatti, qualora dovessimo chiuderlo in questo modo, magari anche al di sopra della linea viola, al di sopra dei 0.16, potremmo vedere andare a risloccare i massimi di 0.18. Ma quel che mi piacerebbe vedere è una rottura e una chiusura al di sopra degli 0.17, perché questo poi porterebbe il prezzo di CRO ad andare in una zona in cui potrebbe permettere una salita fino agli 0.22 cent. È importante andare a monitorare i wiki, perché volevo mostrare dentro questa cosa. A partire dall'ultimo input, dal 22 gennaio 2024, se andiamo a prendere il massimo e tiriamo un Fibonacci, vediamo come l'ultima zona di legazione di questo ritracciamento che ha portato il prezzo dalla settimana del 4 marzo fino a quella del 18 marzo, un ritracciamento dello 0.618 di Fibonacci. Esattamente in quel livello, ha chiuso con questo pattern candlestick, che è un pattern dove ci evidenzia una possibile inversione. Infatti, dobbiamo confermarla con la chiusura di questa settimana. Se andiamo a chiudere sopra la zona degli 0.16, allora potremmo avere le possibilità di andare verso l'alto. Abbiamo una enorme probabilità, invece, di andare a raggiungere gli 0.22. Qua da sale, prima della fine di questo weekend, arriviamo a una chiusura di 0.17. Qualora chiudesse sopra i massimi settimanali, allora avremo la possibilità di andare a toccare gli 0.22. Guys, siamo arrivati alla fine. Iscrivetevi al canale, lasciate un like, fatemi sapere quanti CRO detenete del vostro portafoglio. Ci vediamo nel prossimo video. Bye.